In questa puntata vedremo tre cortometraggi firmati Luisa Pretogliani. Il primo, Kill a Soul, tratta il tema della mafia, sempre più inserita nello Stato. Nel secondo, Berlusconi's Last Hand, vedremo le emozioni che il Cavaliere suscita sui suoi lettori. Ed infine, in The Opening Night, vedremo la magia del teatro attraverso gli occhi di una bambina. Buona visione e buio in sala. I nostri nonni sono emigrati per fame, ora i nostri figli devono emigrare per mafia. Avete dato una risposta di forza, quando avete detto, e adesso ammazzateci voi. Suspizia, verità! Suspizia, verità! Suspizia, verità! Ricordo che tra l'86-90 c'era una guerra di mafia qui a Reggio Calabria, perché ci fu qualcosa come 400 morti. Ci sono i cartelli degli attentati che abbiamo cominciato a tenere, però siccome ne succedono talmente tanti, non riusciamo ad aggiornare. Si è ribellato alla mafia, li ha denunciati tutti, però sono tutti fuori, tranquilli, beati, passeggiano in mezzo a noi. Nella cooperativa noi abbiamo in tutto un 5-600 braccianti agricoli. Diamo fastidio alla mafia perché noi prosciughiamo il loro bacino di manovalanza. Siamo in guerra? Certo che siamo in guerra, più guerra di questa, Aldo. Con la differenza che la mafia è armata e noi che cosa abbiamo in mano? Perché la politica non risponde? Perché abbiamo un mafioso, ogni 10 politici c'è un mafioso. Viva Gianni Alemanno! Viva Roma! Viva la Casa delle Libertà! Viva l'Italia! Viva la Libertà! Silvio Berlusconi è abbastanza complicato da capire inoltre dall'Italia. People sometimes say he's an anomaly, he's a man who made a lot of money, he's a very active man, he was creative, he had ideas. But in politics he has made a terrible impact. Ciao, Alessandro, molto piacere. Ciao, Alessandro, ciao, come state? Ho un comitato di Silvio Scimacchia, io Berlusconi ha 70 anni, cioè nel senso, perché chi è per voi, per quale motivo? Innanzitutto Berlusconi ha 70 anni, ma noi lo reputiamo un magnifico trentenne, infatti l'abbiamo detto appena, questo è il suo compleanno. Silvio, non sei solo per la Francesca, ma per il tutto il paese. Carina, eh? No, 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 no. Manny, vabbè? Vabbè, vabbè? Vabbè, vabbè? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. It's my opening night.